Noi riprendiamo i lavori con il professor Tiraboschi. Se riuscite aspettiamo un attimo di silenzio. Bene, professor Tiraboschi. Sì, buonasera, grazie a tutti. Anche io ringrazio per l'invito e per questa responsabilità della relazione. Il tema che mi è stato affidato dovrebbe completare e integrare il ragionamento fatto dalla collega De Simone, cioè andare ad analizzare il mercato. Abbiamo visto il ragionamento sulla dignità nel rapporto e adesso il tema è quello del mercato. Però premetto subito che non è mia intenzione, non è il taglio che ho dato, quello di dire che le tutele oggi vadano spostate, vadano giocate sul mercato. Voglio subito sgombrare il campo da questa impostazione che peraltro per lungo tempo della mia riflessione mi ha molto interessato, affascinato. Cioè il fatto di dover costruire un'infrastruttura del mercato del lavoro e quindi portare nuove tutele sul mercato. Perché questo percorso è possibile se effettivamente nascono nuove tutele. Quindi anche io arrivo a una conclusione nella relazione per cui si può convincere chi ragiona sulla stabilità, sul principio e sull'attualità del principio della stabilità se effettivamente vengono costruite delle tutele nuove, moderne, che al momento non ci sono. Questo sta nei principi della Flex Security. Invece il taglio che voglio dare è molto diverso e provo a portarlo in un ragionamento, che è 40-45 minuti di una relazione rispetto a un testo molto corposo. Quindi non è facile capire come sintetizzare o comunicare. Per questo ho voluto innanzitutto utilizzare delle parole molto forti di Primo Levi che ho messo in testa alla relazione, che sono un po' il manifesto con cui si può leggere in poche battute in un'immagine il taglio che voglio dare. E cioè che noi giuristi dobbiamo avere la consapevolezza che il tema della dignità nel lavoro, la dignità del lavoro, la libertà nel lavoro sicuramente ha bisogno di regole, di discipline, di norme, però si gioca molto più fuori dalle regole, dall'infrastruttura produttiva, dall'infrastruttura normativa ed è un dato che appartiene alla persona. Quindi il mio ragionamento è stato come il diritto del lavoro, come il quadro delle regole, può accompagnare nella costruzione di questo percorso che accompagna la persona che lavora nella costruzione di questa dignità interiore, che è sua, che non gli viene data da qualcun altro. E allora quindi parto dalla chiusura del mio ragionamento ed è un'idea che mi è venuta anche ascoltando gli interventi, le relazioni pochi giorni fa al ventennale di ricordo di Massimo D'Antona a Roma. Prendo prestito le parole che Roberto Romei ci ha lasciato, anche in uno scritto. Cosa serve oggi al diritto del lavoro per affrontare un tema così difficile, ma anche così scivoloso di non entrare in una retorica dove è facile enunciare i valori e proprio questi valori in realtà non ci sono. E cioè la convinzione che oggi non servano delle costruzioni astratte, che ci sono, l'abbiamo già, è il nostro diritto del lavoro, è la nostra tradizione, ma che servano dei concetti che uniscano il ragionamento giuridico e i valori che il ragionamento giuridico porta con sé e incorpora con la realtà, con i dati di realtà. Quindi il mio tentativo è stato quello, sempre usando queste parole di Massimo D'Antona che ricordava Roberto, è che ci sono tantissimi ponti comodi che tutti passiamo e che li passiamo perché sono comodi e tutti ci passano. Quindi io non posso, diciamo così, riportare ragionamenti fatti tantissime volte a fronte di una perdita di effettività evidente, oggettiva, della normativa giusolavoristica, a fronte di un impoverimento delle tutele delle persone. Quindi il mio tentativo non è contro qualcosa o per demolire qualcosa. Il mio è un tentativo di provare a immaginare qualche ponte nuovo. Questo è il nostro compito. E quindi partire dai dati di realtà. Volevo anche accompagnare la relazione, ma poi era già troppo voluminosa, con dei dati statistici, ma ne porto solo uno. Noi abbiamo lavorato in Italia nel 2018 quasi 43 miliardi di ore di lavoro. Di questi 43 miliardi di ore di lavoro, solo 7 miliardi e mezzo nella manifattura. Tutto il resto è terziario, terziario avanzato, è sociale. Quindi la prima questione che volevo portare nel mediare il ragionamento giuridico con il dato di realtà è che non è in questione il tema della subordinazione, il fordismo di un modello organizzativo. È sbagliatissimo pensare che stiamo ragionando sul postfordismo e che non ci possa essere lavoro salariato, subordinazione del postfordismo. Ma che non è il postfordismo, è il postindustria il tema che dobbiamo affrontare. Questo è il tema che mi ha colpito. Quindi sono andato un po' a ripercorrere, a ricostruire tutto quello che sta nei non mercati del lavoro, quello che sta nel lavoro povero, ma povero perché non ha un mercato, perché non ha un valore di mercato. E quindi ho provato a ricostruire, diciamo così, l'evoluzione storica della nostra materia per capire cosa dobbiamo salvare di questo impianto e cosa di nuovo possiamo portare. Quindi questo è stato un po' il taglio del mio ragionamento. Quindi perdonatemi se vado un po' ai margini di quello che è il ragionamento comune, però poi mi ricordo che da sempre la nostra è una materia di frontiera e che noi non possiamo abbandonare l'idea che il diritto del lavoro sia una materia di frontiera, quindi accontentarci di un'immagine, di un quadro regolatorio che rispecchia un mondo produttivo, un mondo del lavoro del passato. Posto a questa premessa, che credo sia importante, quindi il tentativo di guardare dati di realtà, il primo elemento che mi ha colpito è il ritardo, con cui la riflessione giuridica arriva rispetto alla riflessione sociologica, alla riflessione economica, anche alla riflessione antropologica sul lavoro che cambia. Perché tutto il ragionamento sul mutamento del lavoro, i nuovi mercati, il non lavoro, il non mercato, che portano la relazione, sono compiutamente ricostruiti nella letteratura sociologica degli anni 70, degli anni 80, in Italia come nel resto del mondo. Quindi il tentativo è un po' di colmare questo ritardo e provare a costruire un ponte verso questi territori dove esistono comunque persone che lavorano. Certo, non è il lavoro produttivo che conosciamo, non è il lavoro salariato che abbiamo conosciuto, su cui l'attenzione giusolavoristica si è più incentrata, ma sono persone, sono persone che lavorano e che spesso però non hanno la dignità della copertura di un contratto, di una tutela, di una retribuzione adeguata e soprattutto non hanno la dignità dell'identità del lavoro, dell'identità professionale dentro questo lavoro. Quindi questa è un po' la premessa del mio ragionamento. Il secondo punto che mi ha portato poi a allargare un po' l'orizzonte è stata allora la riflessione sul titolo del nostro incontro, persone e lavoro fra tutele e mercato. Anche qui, riflettendo sulla elaborazione, nella riflessione degli ultimi anni, mi è sembrato che questo titolo contenesse in sé una sorta di pregiudizio o una contrapposizione scontata, la tutela contro il mercato. Abbiamo visto prima le tutele, il rapporto, le tutele giocate dentro un contratto e poi c'è il mercato che fa la parte del cattivo. E allora qui ho provato a ricostruire che cos'è il mercato, che cos'è il mercato da un punto di vista giuridico, evidentemente. Però ancora una volta, nel tentativo di andare a costruire dei ponti, Giugni parlava di quegli agognati ponti tra l'economia e il diritto. E qui si torna a cent'anni fa. Si torna a John Commons, si torna ai principi secondo cui il lavoro non è una merce. So benissimo anch'io che c'è tanta pomposità e tanta retorica nel principio che il lavoro non è una merce. E però è l'unica chiave di lettura che ho trovato per far dialogare il ragionamento giuridico con il ragionamento economico. Perché altrimenti viene in gioco quella contraddizione, quella frattura che più vari colleghi, penso a Vardaro in particolare, hanno documentato. Per cui la razionalità economica va da una parte e comincia a costruire il tema del lavoro attraverso l'idea del lavoro astratto, l'idea del lavoro concreto, ripercorrendo la filosofia, la ricostruzione di cos'è il lavoro e soprattutto la contrapposizione fra il lavoro che ha una professionalità, che ha un contenuto, che ha competenze, il lavoro povero, il lavoro esecutivo, il lavoro per cui la persona che lavora è un equivalente funzionale di una macchina e quindi è un lavoro astratto, non è la persona che lavora. E lì si esce dal regno della libertà. E quindi quel lavoro non è un lavoro umano, non è un lavoro che dà dignità, il lavoratore che entra in quei processi organizzativi viene privato della sua dignità e della sua libertà e il ragionamento giuridico interviene per provare a porre dei limiti, dei condizionamenti. Io ho provato a alzare un po' il ragionamento e quindi provare a dire che è la stagione oggi per riflettere su un'altra dimensione della libertà, che non è la libertà nel lavoro, è importante la libertà nel lavoro, quindi le tutele nel lavoro, quindi le tutele nel contratto, ma che sopra di tutto ci sta la libertà del lavoro, che non è la libertà semplice della scelta del lavoro, ma che è la libertà di esprimere noi stessi, la nostra persona, dentro il lavoro. Quindi cosa può fare il ragionamento giuridico per accompagnare lo sviluppo della persona e il lavoro? Quindi ho provato un po' a superare le due contraposizioni, persona e lavoro. No, non esiste persona e lavoro. Lo diceva Mario Napoli, esiste la persona che lavora, non esiste il lavoro astratto, esiste la persona che lavora, e non esiste una contraposizione fra tutti del mercato, perché il mercato non è un luogo naturale. Qui possiamo riprendere Natalino Irti, possiamo riprendere soprattutto l'insegnamento di Mengoni, per cui il mercato è un'istituzione. Il mercato nasce da delle scelte, nasce da delle regole, e quindi ho provato a dire che per noi giuristi del lavoro il mercato non è quello su cui ci stiamo appassionando, e cioè l'infrastruttura del mercato. Il collocamento, l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e poi le politiche attive, la ricollocazione, certo che conta l'infrastruttura, ma la prima cosa che ci deve interessare è cosa si scambia sul mercato del lavoro e qual è il mercato del lavoro. Questo è il cuore della mia relazione. E quindi è stato inevitabile un ritorno alle origini, perché nelle origini abbiamo discusso se cos'era il lavoro, se il lavoro era la persona, la persona, si diceva prima negli interventi introduttivi, il professor Miscione, è carne, anima, è la persona vera che lavora, o se invece è una entità astratta. Quindi questo è il primo elemento del ragionamento. Ho provato a cercare di ricostruire cosa si scambia oggi nel mercato rispetto a quello che si cambiava ieri nel mercato del lavoro. Quello che è molto importante è partire da questo principio secondo cui il lavoro è una merce. Qui c'è una letteratura incredibile a livello internazionale dell'importanza di questa affermazione, per cui i meriti del poter dire che la persona lavora e lavora in un mercato e quindi anche la sua attività, il suo corpo entra nello scambio. E però non è soltanto questo. Allora, cosa vuol dire? Non è soltanto questo. Quali sono gli interventi del ragionamento giuridico per presidiarlo? Ora, il primo punto, credo il più importante, che poi aiuta a spiegare anche un po' le conclusioni, quello che in realtà è l'apertura per un nuovo percorso, questo nuovo ponte su cui potrebbe indirizzarsi l'attenzione dei giusolavoristi, è che è evidente che nella prima rivoluzione industriale si acquistava il tempo delle persone. Si acquistava il tempo. Era un mercato del tempo. Poi l'abbiamo costruito come un mercato delle qualifiche, un mercato delle mansioni, ma era funzionale all'inserimento di una persona per un certo lasso di tempo dentro un contesto organizzativo precostituito. E quindi poi la costruzione del contratto come strumento di organizzazione. Il problema è che oggi i luoghi del lavoro spesso non sono organizzazioni, non sono imprese e soprattutto anche quando sono imprese la quarta rivoluzione industriale ci porta in questa direzione se studiamo esattamente il fenomeno, che non è solo il lavoro su piattaforma, non sono solo i rider, ci porta a ragionare su questo punto importante, che le imprese non vanno più a acquistare tempo, vanno a acquistare il talento, la fiducia, l'affidabilità, beni immateriali. E quindi non vanno a acquistare del tempo da inserire dentro un contesto organizzativo predefinito. Vanno a ingaggiare le persone nella loro professionalità. Questo è un tema importante, sfuggente, cioè anche una fortissima produzione legislativa e una grandissima evoluzione della rappresentanza, che noi giurislavoristi non seguiamo, ma che è molto importante aver presente, e che si sta sviluppando, lontano dall'angolo di osservazione dei giuristi del lavoro, della gestione del lavoro, tutto un mercato delle professionalità, diciamo lavoro autonomo professionale, diciamo quel lavoro autonomo professionale non regolamentato in ordini o in albi, che ha anche una legge che non conosciamo, è la legge 4 del 2013, dove si sta bypassando il momento della rappresentanza collettiva o si stanno costruendo delle forme di rappresentanza di lavoro autonomo di nuova generazione. Abbiamo contato, con i nostri ricercatori dottorandi, di ben 400 che vanno a costruire dei profili professionali e professionalità che vanno fuori completamente dal mercato del lavoro. Cioè si sta andando verso una direzione di mercati professionali che fuoriescono completamente dal controllo della normativa del lavoro e quindi dalle alue dei tribunali e soprattutto dalla contrattazione collettiva. Questo non deve stupire chi segue il tema della fila del fordismo, ma inteso come fine del lavoro che ha un mercato, che ha un valore di mercato, perché già allora si teorizzava il professionalismo di tutti, ma intesa come individualizzazione dei rapporti lavoro, individualizzazione dell'ingaggio dei rapporti di lavoro. E quindi il mio tentativo nella relazione è stato quello di provare a tirare dentro, a trarre dentro invece il ragionamento giusolavoristico questi mestieri. E la chiave di lettura è una chiave di lettura non nuova, però molto trascurata nel nostro paese, che è la chiave dei mercati transizionali del lavoro. Quindi non il tema Flex Security, togliamo le sicurezze dal contratto, mettiamole nel mercato, come se fosse il mercato del Novecento, come se fosse il mercato dei tempi di lavoro. Non è più quel mercato. Esiste innanzitutto una pluralità di mercati, non più governati solo da logiche settoriali o territoriali. Noi abbiamo ancora dei vecchi modi di intendere il mercato del lavoro, il contratto collettivo nazionale. Ogni contratto collettivo costruisce un suo mercato del lavoro che serve per fare entrare le persone nei mercati interni del lavoro, come se le aziende avessero ancora dei mercati interni su cui costruire i percorsi di carriera, quella stabilità, quel lavoro per una carriera, per una vita. Non è più così. sta scomparendo il mercato interno del lavoro e accanto alle logiche settoriali in un mercato globale si stanno sviluppando dei mercati locali. Sono i mercati locali, sistemi locali, diremmo gli ecosistemi locali del lavoro che sono poi gli snodi della nuova economia, gli snodi attraverso cui territori entrano o non entrano nelle catene globali del valore. Questo è il tema. La mia relazione non entra e questa è una lacuna sicuramente sul tema di come ricostruire le catene globali del valore, quindi il tema della globalizzazione che non è più solo dei mercati ma proprio di come si fa impresa, di come si crea valore nelle imprese, come si distribuisce il valore creato. La mia relazione vuole invece concentrarsi sulla mappatura dei tanti mercati che noi abbiamo. Quindi abbiamo dei mercati istituzionali, abbiamo i mercati nazionali, il mercato del lavoro produttivo, abbiamo anche il mercato del lavoro non produttivo. Noi stiamo dando molta attenzione, molte energie a un tema che ci colpisce anche per quello che la cronaca ci racconta dei motofattorini, dei ciclofattorini, sono diecimila e giustamente come dice Gisela De Simone trascuriamo, snobbiamo il tema del lavoro domestico, sono due milioni di lavoratori, tendenzialmente dovrei dire due milioni di lavoratrici, l'80% è ingaggiato fuori dal mercato, non ha un contratto, non ha tutele e questo tema non ci colpisce perché è lavoro domestico, è collaborazione alla famiglia, non è il lavoro produttivo nobile che ci interessa. Abbiamo all'incirca tre milioni, tre milioni e mezzo di lavoratori di cura perché c'è il lavoro domestico retribuito, c'è il lavoro domestico non retribuito, c'è il lavoro di cura, il lavoro di assistenza, ma questo è un esercito di persone che lavora o non lavora. Io ho avuto anche l'opportunità di scambiare qualche opinione nella stesura della relazione con dei colleghi che stimo molto, ma quando si dice per il giurista il lavoro gratuito non è lavoro, stiamo dicendo che il lavoro di cura è il lavoro che dedichiamo ai nostri figli e ai nostri anziani, che può anche essere un lavoro da costruire in un mercato non è lavoro perché non è nobile. Qui allora la prima cosa che viene fuori è la letteratura internazionale molto forte sul punto a segnalarlo e che noi abbiamo costruito un mercato e un quadro lavoratorio che riconosce solo il lavoro produttivo e il lavoro salariato e che però guarda caso si basa su una logica di divisione dei ruoli fra uomo e donna nella famiglia, per cui è evidente che il carico del lavoro non produttivo è sulla donna alla quale però si concede giustamente un part time, si concede una conciliazione che a me conciliazione è. Questo è un tema importante e Touraine o altri sociologi ci dicevano agli anni 70 che il lavoro produttivo è un lavoro come gli altri. Quindi il mio tentativo è stato quello di dire questo è il tema su cui mi piacerebbe il confronto perché mi rendo conto che il ponte che propongo ci porta un po' lontano ma non vuole demolire i ponti esistenti vuole raccontarci la realtà del lavoro è quello di costruire un'ontologia del lavoro che copre il lavoro per quello che è per le persone e qui è molto importante il ragionamento che possiamo sviluppare sul reddito di cittadinanza o reddito universale nelle varie versioni di cui si parlava prima perché mette un po' diciamo così alle spalle al muro una certa logica una certa retorica prima si parlava dell'etica del lavoro friulana io sono un bergamasco quindi anche io un'etica del lavoro ma per cui la nostra vita è il lavoro e la nostra vita non è altro che il lavoro chi sa quali sono i principi fondamenti non del reddito di cittadinanza italiana ma di questo reddito di base garantito è quello di garantire la libertà della scelta della persona nella sua attività nella sua vita in quello che vuole fare in quello che può fare quindi garantirgli la piena libertà e dignità di espressione attraverso le scelte delle attività del lavoro io guardo con interesse l'esperimento italiano non lo guardo in termini favorevoli o non favorevoli però sicuramente ci aiuta a riposizionare meglio il tema del lavoro io penso che il diritto del lavoro abbia consentito di far uscire il tema del lavoro dal diritto privato non è un fatto privato è un fatto di rilevanza pubblica abbiamo costruito un quadro di tutele che è ancora forte che è ancora robusto e quindi questo è un patrimonio questo è un patrimonio che credo accomuni tutti noi giusolavoristi il tema questo però a questo punto è di capire cosa fare di questa libertà quindi la libertà nel lavoro l'abbiamo costruita va riconquistata va tutelata va meglio presidiata garantita anche in termini di effettività ma su questo punto ci siamo manca la dimensione alta della libertà e quella è la risposta la libertà dal lavoro questo vuole essere il trice di inanza questo è il tema su cui io invece nutro da giurista ma giurista che si pone al servizio non dei valori astratti ma delle persone in carne e ossa le persone che lavorano le persone che non lavorano o che cercano lavoro ho un grande dubbio e qua c'è una letteratura mi ha molto colpito nell'andare a recuperare questi frammenti di un diritto al lavoro del futuro di questo non mercato l'hanno tirato fuori i previdenzialisti la scuola di Ferrara in particolare che è quella che è più utilizzata che per prima si è messa a riflettere sulle correlazioni che esistono fra il sistema previdenziale e delle tutele delle grandi tutele che diamo col welfare e le logiche dinamiche del nostro mercato del lavoro qual è il tema che il lavoro è reddito che semplicemente c'è un'equivalenza diretta io penso che ci sia molto di più il lavoro non è solo reddito il lavoro innanzitutto è reciprocità è riconoscimento reciproco quindi prima si citava Rescigno Rescigno addirittura aveva forse un po' esagerato nel dire che non c'è persona se non c'è relazione con l'altro è un'impostazione che si può accettare non accettare io la condivido abbastanza però il lavoro innanzitutto è reciprocità è riconoscimento è la costruzione di un percorso interiore che ci porta a conoscere noi stessi ma non può nascere e finire nella retribuzione o nascere e finire nel valore del lavoro in sé perché poi alla fine se queste tecnologie tanto ci spaventano e ci portano verso un'epoca della fine del lavoro che non è beh ci spaventano perché c'è un vuoto antropologico fortissimo dietro il modo con cui noi in occidente intendiamo il lavoro quindi il tentativo è stato quello di far recuperare una dimensione antropologica dentro il contratto di lavoro dentro il rapporto di lavoro come regno della libertà dove è importante un'infrastruttura giuridica ma è importante se questa infrastruttura consente alle persone di realizzarsi attraverso il lavoro come esperienza di lavoro questo mi ha portato allora a sviluppare dei ragionamenti su quello che è il non lavoro il lavoro senza mercato il lavoro senza valore di mercato proprio andando a recuperare tutte queste espressioni alcune abbiamo già citate lavoro domestico lavoro di cura il tema importantissimo del lavoro nelle carceri il lavoro di chi deve rientrare nelle carceri il lavoro di quell'esercito di invisibili che sono i disabili cioè un lavoro declinato al prulale che va fuori che va oltre la logica di scambio pura che noi troviamo quindi il tentativo di ricostruire i vari mercati e le varie dinamiche c'è anche una sentenza importantissima delicata depositata la settimana scorsa alla corte costituzionale dove addirittura sulla base di un ragionamento molto forte molto ricco della corte appello di Bari si andava a discutere se anche la prostituzione avesse diritto ad avere un mercato e se è possibile realizzare una libera scelta anche attraverso questa professione questo per dire come si sta allargando l'orizzonte se uno legge più che la sentenza bellissima della corte costituzionale ma l'ordinanza della corte appello di Bari gli legge un ragionamento proprio tecnico giuridico scientifico sulla costruzione giuridica del mercato del lavoro e quindi il ruolo degli intermediari il ruolo della domanda il ruolo dell'offerta come tecnicamente e ci fa pensare sulla logica dello scambio sulla logica del contratto sul valore che sta dietro il contratto questi sono chiaramente solo degli spunti nel senso l'invito ad andare oltre il lavoro industriale ripeto è un dato storico ed è un dato inequivocabile sono il numero di ore lavorate sono il numero di addetti all'industria della manifattura noi abbiamo semplicemente sono manifattura saranno 5 milioni di persone che lavorano in manifattura su 23 milioni di persone che lavorano su 40 milioni di persone inità di lavoro ecco benissimo abbiamo costruito un quadro normativo che presidia in maniera abbastanza efficiente questi 5 milioni di persone in manifattura è molto più difficile più delicato ricostruire le dinamiche giuridiche delle tutele dentro i mercati del terziario avanzato ci sono dei mercati nuovi che non vengono riconosciuti io penso come ricercatore al ruolo del ricercatore non accademico che non ha neppure lo status la dignità dello status di ricercatore perché nell'azienda viene assunto semplicemente come un impiegato al limite come un quadro ma non viene assunto come ricercatore perché non ci sono ponti di collegamento fra ricerca pubblica la ricerca privata terminato il dottorato il dottorato industriale questo mercato muore quindi vedete la varietà la pluralità dei mercati che noi abbiamo di fronte a noi che vanno presidiati io penso che i giuristi debbano attrezzarsi per regolare questi mercati per evitare che questi mercati si autoregolino noi abbiamo già un esempio storico ce lo diceva Giugni ma lo possiamo dire anche alla Polani il mercato non istituzionale dove c'è tanta frode dove c'è sfruttamento ma dove c'è anche un contromovimento una reazione a regole vecchie che non funzionano e che portano a costruire quadri regolatori nuovi voi provate a immaginare come si può contrattualizzare una badante visto che non c'è un mercato dell'incontro fra domande offerte e lavoro visto che questo mercato è governato da pseudo cooperative che poi attivano contratti di collaborazione e coordinata continuativa quando va bene quindi sono tutti mercati nuovi da costruire e stando sulle frontiere del diritto del lavoro noi dovremmo occuparci di questi mercati che a livello quantitativo a livello di valore sono importanti anche questo è lavoro anche questo è un lavoro che merita protezione che merita dignità che merita valorizzazione e dall'altro lato però cercare di capire qual è il concetto di cui abbiamo bisogno un concetto aggregante un concetto che aiuti a collegare questa realtà che cambia rispetto a quelle che sono le regole del diritto i valori che le regole del diritto incorporano e quindi i nostri principi presenti nella Costituzione ecco io ho individuato come concetto aggregante un concetto molto dibattuto e anche molto ambiguo sfuggente non a caso sfuggente che è il concetto della professionalità io penso che nei mercati transizionali fatti di esperienze di lavoro di non lavoro di attesa di volontariato di cura di assistenza cicli fasi quindi è prendere in considerazione non solo il contratto ma l'attività ci deve però essere una calamita cioè un qualcosa che aiuta a ricomporre queste traiettorie queste carriere che non sono più continuative non sono più stabili un qualcosa che appunto va da rimpiazzare la stabilità io voglio essere giurista fino in fondo ma il giurista deve costruire i suoi ragionamenti non a difesa delle sue convinzioni ma a difesa delle persone e dei processi reali la stabilità è esistita negli Stati Uniti dove non è mai esistito un articolo 18 o una legislazione se non nel Montana che tutelasse contro i licenziamenti perché se leggiamo John Commons 1919 è un patto fra l'impresa e il lavoratore Commons parlava non solo dei fondamenti del capitalismo ma dell'industrial goodwill che non è la benevolenza come l'abbiamo tradotta la vera traduzione è un patto psicologico di collaborazione e partecipazione io ti vendo il mio tempo tu mi garantisci un posto e un salario quindi nasce prima il posto nella realtà era lo scambio dei processi produttivi dove si vendeva si comprava tempo su mansioni predefiniti per compiti semplici poi se vogliamo aggiungere il fordismo o Taylor dove soprattutto la persona era richiesta di non usare la testa perché avrebbe alterato l'efficienza del processo scientifico di organizzazione del lavoro e no questa stabilità non è morta perché è stato superato l'articolo 18 è morta nella realtà dei mercati del lavoro è morta nella relazione e allora qual è l'equivalente su cui io spenderei tempo energie e la passione che abbiamo noi giusolavoristi nelle scelte di valore che abbiamo fatto nel scegliere questa materia e non altri nella professionalità proprio perché è un tema sfuggente ambiguo addirittura qualcuno ha detto che la professionalità sono sociologi che ne ragionavano negli anni 70 80 è il sintomo l'emblema di un conflitto non a caso la professionalità rientra oggi nella letteratura economica organizzativa sociologica che sta studiando la quarta rivoluzione industriale non è un caso è un conflitto fra quello che vuole l'imprenditore quindi quello che vuole comprare e quello che invece è patrimonio della persona nel lavoro la mia identità professionale non solo professionalità qui devo citare ancora meno Napoli che non vuol dire professionalizzazione o alte professionalità poi vedremo se la letteratura e i dati c'è un bellissimo libro di Patrizia Tullini sul lavoro valori identità dove Mario Napoli dice la professionalità sta in qualunque lavoro anche nei più umili e qui torna Primo Levi torna l'esperienza di molti di noi la dignità del lavoro noi non l'abbiamo per il tipo di lavoro o per il tipo di tutele l'abbiamo per come noi intendiamo il lavoro quindi il diritto deve aiutare questa espressione di dignità attraverso il lavoro la professionalità è identità noi dobbiamo dare delle indicazioni nei processi educativi nei processi formativi su come si costruiscono le professionalità che non sono qui vado oltre l'occupabilità perché l'occupabilità qui torniamo su discorsi e su errori anche di 10-15 anni fa no? non è piegare i processi educativi formativi e le esigenze del mercato perché questo è il fabbisogno professionale delle aziende oggi in questo momento in questo territorio no l'occupabilità è la costruzione dell'identità della persona che ha un suo sapere ha un suo saper fare ha un suo saper essere attraverso il lavoro e qui nella relazione dico rispetto a queste critiche molto forti sull'alternanza sui tirocini l'apprendistato e molti abusi che ci sono che questa esigenza guarda caso non nasce dall'economia ma nasce dalla pedagogia come possiamo anche noi docenti come possiamo insegnare i nostri studenti oggi rispetto a modelli organizzativi che non sono predefiniti rispetto a mansioni che sono aperti variabili rispetto a percorsi di carriera intermittenti ciclici occasionali che ci sono non ci sono ricompaiono ti impongono diventati mestieri tu devi rafforzare la persona quindi la professione innanzitutto è l'accusazione di un'identità professionale che poi si aggancia a un'identità di mestiere allora possiamo appassionarci al 2103 alla difesa della professionalità dentro il contratto possiamo appassionarci c'è poca letteratura bellissima sull'oggetto del contratto se sono le mansioni se il tempo se invece è la professionalità però il discorso che volevo portare io rispetto a questi mercati transizionali ed è in linea col titolo del nostro incontro è che probabilmente sbagliamo se mettiamo troppa enfasi nel contratto ma non lo dico alla Romagnoli nel dire che abbiamo dato troppo affidamento al contratto che quindi occorre ricostruire un sistema pubblico affascinante quella ricostruzione la laboriosità e non solo il lavoro il contratto no sto dicendo qualcosa di più che occorre costruire un'infrastruttura giuridica dove sia possibile ricostruire questa professionalità questa inità professionale i francesi stanno facendo qualcosa hanno creato un conto personale di attività hanno appena varato una legge per la scelta della propria professione che non vuol dire demolire il vecchio diritto del lavoro che vuol dire invece andare a costruire quei frammenti che le persone prima o poi incontrano che le persone prima o poi incontrano nei loro fasi di vita nei loro cicli di vita e di attività e che però poi le persone si perdono allora perché sono fallite le politiche attive perché è fallita la flex security è fallita lo possiamo dire perché abbiamo smantellato alcune tutele ma non abbiamo costruito un pavimento di nuove tutele perché stiamo ancora ragionando sulla vecchia del lavoro lavoro salariato lavoro produttivo e sull'unico vecchio mercato il mercato del tempo di lavoro e quindi noi pensiamo e lo pensiamo anche nelle politiche sulla riduzione degli orari per creare altri posti di lavoro su quota 100 che il mercato del lavoro sia un qualcosa di fisso fatto di numero di ore per cui se tolgo da una parte e creo dall'altra per cui se licenzi o tizio da un'azienda lui subito troverà un altro posto identico al lavoro che stava facendo non è più così non c'è più la transizione la ricollocazione da posto a posto è lì che fallisce il contratto di ricollocazione è lì che fallisce la flex security occorre costruire altro appunto immaginando di creare di ricomporre attraverso un concetto aggregante dei vari pezzi e allora qui la professionalità diventa quell'elemento non solo identitario ma necessario in qualunque lavoro sto citando ancora necessariamente Mario Napoli sul punto di qualunque lavoro diceva autonomo professionale io è lì che vedo il superamento della divisione fra lavoro autonomo e subordinato che era poi Vardaro con l'evoluzione tecnologica alla fine del fordismo la separazione fra lavoro intellettuale lavoro manuale è nella professionalità che viene meno perché tu puoi essere professionista con la tua identità con delle competenze con delle abilità delle capacità che ti giochi oggi come dipendente domani come subordinario ma la tua identità rimane stessa quindi l'idea di costruire un quadro giuridico agganciato alla persona e io penso che questo sia un ragionamento giuridico non è un ragionamento di fantasia e siamo sempre nel titolo terzo della costituzione rapporti economici perché l'economia civile o perché il lavoro non produttivo è comunque sempre un lavoro è un'attività lavorativa che impone l'esercizio di energie della persona di intelletto della persona di passione della persona quindi crea valore e però spesso il diritto non aiuta a capire che quello è valore che quindi quel valore va riconosciuto va remunerato va adeguatamente tutelato quindi il ragionamento che volevo portare ripeto lo devo dire forte perché probabilmente la mia relazione non è chiarissima ma giusto appunto perché stavo provando a costruire qualcosa di nuovo non è dire dimentichiamoci il passato quello c'è quello è forte abbiamo la libertà nel lavoro il diritto al lavoro regolamenta questa libertà questa relazione che dà luogo a logiche di potere di supremazia e che ci porta a dire che il lavoro non è merce c'è una persona che quindi l'autorità va regolata va disciplinata possibilmente più in via sussidiaria che in via eteronoma io vado a sfidare il paradigma lavoristico ma non lo vado a sfidare in termini normativi lo vado a sfidare in termini di cultura giuridica della nostra cultura giuridica che è la cultura della norma inderogabile della norma eteronoma però poi se uno va a vedere la legislazione a livello internazionale comparato e va a vedere la storia la norma inderogabile non è esistita in moltissimi altri paesi che pure conoscono il lavoro conoscono l'economia di mercato e conoscono forme di utile del lavoro altre logiche la logica del bilanciamento di poteri per dire qui c'è una fortissima polemica anche recente sui fondamenti filosofici del diritto del lavoro rispetto a chi esalta i valori ma non per dire che i valori non sono importanti sono importantissimi però una volta che abbiamo enunciato i valori questi vanno resi concreti vanno resi concreti per le persone concrete in carne ed ossa nei contesti dati e quindi costruire non un'utopia una rivoluzione ma costruire una risposta praticabile oggi nel mercato del lavoro chiudo quindi il mio ragionamento con questa semplice riflessione io ho provato a recuperare materiali della nostra tradizione della nostra storia che ho trovato nella letteratura che ho trovato nella riflessione oltre chiaramente il campo giuridico ma per cercare di immaginare una nuova razionalità che non può contrapporre economico e giuridico che deve costruire un qualcosa che unisca il rango giuridico ma dove lo costruisci? Noi lo costruiamo nel sociale noi lo costruiamo nella persona nella tutela della dignità della persona semplicemente penso che non possiamo soddisfarci essere soddisfatti appunto di limitarci nei nostri incontri a declamare a richiamare la carta dei valori e poi appellarci alla crisi del diritto alla crisi dei valori a quanto è cattivo il mercato il mercato non esiste il mercato è un'istituzione sociale creata dalle persone in questo senso possiamo dire che c'è la libertà che è la libertà delle persone con scelte politiche scelte storiche fatte attraverso politica del diritto attraverso legislazione attraverso contrattazione collettiva di costruire il mercato che vogliamo basta sapere che il mercato è cambiato che è un mercato plurale e che le forme di espressione del lavoro oggi sono molteplici sono plurali quindi io avrei titolato probabilmente il nostro incontro la persona che lavora quindi non il lavoro e la persona il tempo di vita e il tempo di lavoro come se fossero due cose diversi c'è una letteratura bellissima sul tempo libero il tempo della festa come se il lavoro fosse il tempo della pena il tempo della sofferenza la mia convinzione è che oggi la grande divisione il grande dualismo del mercato del lavoro è fra chi fa un lavoro che lo soddisfa che gli dà energie e vitalità e chi purtroppo è costretto a fare un lavoro che è una guerra è una pena è una sofferenza la strumentazione giuridica può aiutare a colmare questo dualismo che è ben più del dualismo stabili precari contratto tempo determinato e altri contratti ma lo deve fare appunto andando a ricostruire i ponti interrotti non chiusi con tutte le altre discipline per quello che ho scelto la professionalità perché la professionalità ci obbliga a ragionare con la sociologia con l'economia con la psicologia con l'antropologia e quindi a ricomporre a unità la persona e superare quindi quella tensione di cui ci parlava Mario Grandi tra il lavoro merce e il lavoro persona tra il lavoro oggetto e il lavoro soggetto è nell'unità nell'integrità che noi riusciamo a recuperare la piena dignità concretamente della persona anche nel ragionamento giuridico grazie 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 grazie